Le immagini che vedete immortalano le gradinate dello stadio mercante. Da mesi l'area centrale delle tribune è letteralmente invasa dal guano dei piccioni che da tempo hanno scelto la tettoia del velodromo cittadino come proprio rifugio. A contattare io, chiamo Rete Veneta, è stato un nostro telespettatore indegnato da un così spiacevole ed insalubre spettacolo. Spettacolo questo che si ripete senza sosta ogni 15 giorni dopo che in occasione delle partite casalinghe personale della società Virtus Bassano provvede a proprie spese a ripulire l'intera area. Più volte il problema è stato segnalato all'amministrazione comunale proprietaria della struttura ed incaricata di trovare una soluzione definitiva ad una grana comune in realtà a moltissimi stadi. Eppure sostengono in tanti, basterebbe pensare ad una rete di protezione da posizionare appena sotto la copertura della tribuna così da impedire ai piccioni di sostare proprio sopra i posti a sedere. Più volte l'amministrazione ha promesso di farsi carico del problema ma per ora nulla è stato fatto. E allora ancora una volta andremo a bussare in comune e cercheremo di avere risposte.